Ciao ragazzi! Buonasera! Io sono follemente innamorata di questa città, dai siti come l'hanno ricostruita è bellissima. Questo qua dovrebbe essere il carcere. Ecco, allora analizziamo già subito un'altra cosa, il movimento dei capelli. È bellissimo! Ho visto i ragazzi ProdiGeek che hanno fatto in effetti un'analisi di questa cosa dei capelli, le hanno considerate notevoli. Anche io stesso nel trailer, nella reaction, le consideravo notevoli, però diciamo un parere un po' più autorevole in tal senso, cioè nell'ambito tecnico, mi è servito per capire che effettivamente è così. Perché Nvidia ha, non c'entra niente Nvidia qua, però dico Nvidia ha messo a punto il suo Hairworks che permette di implementare il movimento dei capelli in maniera realistica, no? Questo non è Nvidia Hairworks, ma è comunque qualcosa di difficile da fare, eppure lo fanno ottimamente. Poi se voi guardate anche l'espressione del viso, le animazioni facciali, a me convincono ragazzi, poi non so voi, sempre dovete pensare anche che si tratta di un gioco che è open world, sempre un open world abbastanza vasto, ricco di dettagli. Ma poi questo trailer, essendo il primo trailer, vi deve dare, visto che comunque passerà più di un anno, un contesto narrativo. Qui abbiamo un contesto di ambientazione, un'introduzione ai personaggi, un tipo di mood che avrà anche il gioco, l'ambientazione, Vice City, su cosa si concentrerà. Quindi io non mi lamenterei assolutamente di questo trailer perché manca il gameplay. No, 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 ma poi è sempre stato così. Il modus operandi di Rockstar con GTA e anche con Red Dead in realtà è sempre stato il medesimo. Dite, vabbè, sarebbe dovuto cambiare perché adesso siamo più esigenti, più scottati a certe delusioni e vi dicendo sì. Però è più di un teaser, ragazzi, non si può considerare teaser. Il teaser è semplicemente anche solo una scritta, un logo che vi dice 2025 e basta, con il logo di GTA 6. Invece in questo modo si è mostrato, c'è stato un overview, una panoramica appunto del mondo di gioco, di Vice City, dei personaggi, si è capito qualcosina, un hint, un suggerimento sulla storia, sui due personaggi principali, in particolare una. Poi gli altri trailer chiaramente chiariranno. 30 fps, 60 fps, io credo che per la grafica che stiamo vedendo i 60 siano molto difficili su questa generazione. Qui lo sta dicendo Midrina. No, poi magari, allora, diciamo che Rockstar Games ha le risorse e il potere tecnologico per fare miracoli, però per quanto riguarda il framerate, non posso dare per scontato che siano 60 vedendo quello che abbiamo visto qua. Per quanto riguarda, vi aspettate di vedere Tommy Vercetti nel gioco, lo dicevo prima a lui, sì. Sì, ci aspettiamo, poi se non ci dovesse essere pazienza, però magari invecchiato, molto invecchiato perché sono passato i 40 anni. Lucia, la polemica è il gioco è Wok perché la protagonista è donna. Io, onestamente, da tutto quello che ho visto nel trailer, ho visto più culo che altro, mi sembra tutt'altro che Wok. A me non sembra Wok, eh. Onestamente niente mi fa capire che possa essere Wok, così come, peraltro, il discorso è Wok perché la protagonista è femmina, secondo me è di una pochezza mentale clamorosa. Esatto. Ragazzi, va bene, allora basta metterci una donna, basta metterci qualcuno che non rientri nei canoni classici dei GTA e allora basta e Wok e no, cazzo. Ma allora praticamente non hanno libertà di esprimersi veramente. Appunto, sì. Perché se uno lo fa perché deve mettere la donna per forza, non ha libertà di espressione perché avrebbe voluto mettere un uomo. Se uno lo fa perché ci voleva mettere la donna, non ha libertà di espressione perché è stato costretto a metterci una donna. Ma dai che cazzo stiamo parlando? Esatto. Ok, lei sai perché sei qui? E questa, vabbè, quella del carcere, si chiama Stefani, c'è scritto se vi interessa, non credo sia un personaggio. Vediamo anche le foto sue, la famiglia. Le foto sue, la famiglia di lei, ma sti cavoli alla fine. Eh, vabbè. Sai perché sei qui? Lei gli chiede... Sfortuna. Sfortuna, forse. Vabbè, che è la classica... Allora, non sappiamo neanche, ragazzi, se questo non possa essere l'inizio, nel senso che poi lei racconta tutto quello che succede in GTA 6. Sì, sì, sì. Quindi che magari quello che vediamo in GTA 6 non è altro che il passato rispetto a questo, che lei dice come sei finita qua e lei racconta la sua storia. Passato recente. Prima. Questo potrebbe essere un incipit adottato anche da altri titoli, uno su tutti, mi viene adesso in mente Mafia 1, no? Sì, che lui racconta. In cui c'era Tommy Angelo che raccontava le sue vicissitudini nell'ambito della mafia italiana, chissà seppure qui sia così. Io penso che sia proprio all'inizio questa parte, non che lei a un certo punto Piglia e la incarcerano. Si, potrebbe anche essere. Sì, nell'immagine promozionale, nell'artwork, lei ha una cavigliera degli arresti domiciliari, quindi potrebbe anche essere che questo sia prima e poi le danno gli arresti domiciliari, però qui è proprio in galera. Mi piace molto il suo sguardo, uno sguardo molto carismatico, molto furbo. Invece poi lo vedremo, Jason mi sembra molto triste. Questo tu stai prendendo la psicologa. Ragazzi, l'acqua in questo gioco, l'acqua è senza senso. Io ho parlato degli effetti particellari, c'è stato qualcuno che mi ha detto, vabbè, ma vai a cagare il cazzo con gli effetti particellari? Sì, perché è il mio lavoro in teoria, però effettivamente mi sembrano fatti bene. Ragazzi, prendete gli effetti... Allora, Spider-Man 2 gli ho voluto bene come gioco, però prendete gli effetti particellari di un gioco come Spider-Man 2, che è la cosa più recente che mi viene in mente con cui fare il paragone, e poi questo, gli schizzi. Vi ricordate i famosi schizzi di cui ho parlato? Qua sembrano fatti molto meglio. Ragazzi, ma al di là degli schizzi, ci sono le tartarughe marine. È vero. I delfini... Almeno sembra... Sì, no, no. In uno screen fermo si vede bene. Sono le tartarughe marine e gli squali. Immaginate di farvi un bagno di tuffare. I segreti che ci sono nelle acque di GTA sono sempre pazzeschi. Grazie a Tenicronos. E di trovare queste tartarughe, questi delfini, gli squali. Io non lo so, divento scema. Comunque... Attenzione. Andiamo avanti. È un mondo vivo. È un mondo vivo. Gli schizzi sono fatti bene. Guarda, gli schizzi, le scie d'acqua sono fatti bene. Poi anche gli stormi di uccelli. E attenzione, anche l'increspatura delle onde. È tutto fatto bene. E attenzione, questo, tutto il trailer è in engine. Io dico, cara Rockstar Games, precisa le certe cose, perché poi certe volte non ci si crede, no? Tanti hanno detto in CGI. Io do per scontato che tutto il trailer sia in engine, ma so per certo, si può vedere tranquillamente, che molte scene sono in engine. Però non posso dare totalmente per scontato che non sia un misto fra CGI e in engine. Secondo me no. Secondo me è tutto il engine. È tutto quello che vediamo, engine. Un'altra panoramica di Vice City, sempre bellissima, è io in quasi tutte le panoramiche si vedono elicotteri e aerei. A me questa insistenza mi fa pensare, qui c'è un elicottero e c'è un altro elicottero, mi fa pensare che appunto potremmo portare gli aerei e gli elicotteri. Vabbè, ragazzi, non è una cosa che possiamo dare per scontato in un GTA, però diciamo che lo diamo per scontato. Allora, è una pubblicità. C'è scritto 99, why 69 if you can 99? Allora, praticamente questa cosa è una cosa che esiste anche negli Stati Uniti davvero. Qualcuno specula che 9-19, cioè 19 settembre, sia la data d'uscita. Il doppiaggio in italiano non ci sarà? Penso di no, ragazzi. Non credo proprio che sia la doppiaggio in italiano. Allora, ragazzi, i tempi sono cambiati per il doppiaggio in italiano? In peggio. Infatti, quindi non credo proprio. Quindi se prima nessun episodio di GTA era stato doppiato e neanche Dead Redemption, figuriamoci oggi che anche altri sviluppatori e produttori non stanno più doppiando in italiano. Io penso che Rockstar non abbia più motivo proprio per doppiarlo in italiano se prima qualche ombra di motivo ci poteva essere. Come dite voi, come dicono alcuni, sì però, nel frattempo GTA 5 è esploso molto anche in Italia. Quindi potrebbero anche tenere in considerazione questo mercato. Ma io vi controrispondo. Non è che sia stato un fenomeno esploso solo in Italia, in tutto il mondo. Quindi nel dubbio potrebbero non doppiare di nuovo in nessuna lingua, perché tanto sti cazzi esplode comunque. Quello che noto io è che vediamo gli interni sono diversi. Ora, è in questa scena oppure poi in realtà gli interni ci saranno un po' alla Spider-Man, che ci sono però sono predefiniti. Allora, potrebbero essere alla Spider-Man. 15 anni fa riflettevamo. Ti immagini però un gioco alla GTA in cui puoi entrare non solo negli interni, ma anche tipo all'interno di un palazzo e visitare tutto il palazzo casa per casa, e anche sfondare gli appartamenti in cui non puoi entrare perché è chiuso, tanto sei un criminale. Ora, qui stiamo sognando. E poi tra l'altro dovremmo anche considerare quanto sarebbe utile per una cosa del genere. Utile non si sa, figa però tantissimo. Ecco, qua c'è un'altra parte perché comunque ci sono anche molte parti nella natura, diciamo. Sì, alcuni hanno parlato Florida Keys. Io non so bene la definizione geografica di questo. Allora, la Florida è chiamata Leonida. Qui c'è qualcuno che ha un fucile in mano, così giusto per dire... Ma di questo non mi stupirei, eh. Siamo in America. Inoltre è una donna. Ha i capelli lunghi. Forse è Lucia. Magari è sempre Lucia in una scena in cui... Questa sarà una scena e secondo me è un overview di una scena sempre in engine in cui praticamente lei sta attraversando questa zona che poi potremmo, presumo, esplorare anche liberamente. Sono un'altra persona. C'è un'altra in questo overcraft, in questo... E qua gli effetti particellari mi convincono, ragazzi. Sono carini. Ragazzi, sto screen. A livello di ricchezza di fauna abbiamo i fenicotteri. Abbiamo questi. Cosa sono? Gli aeroni? Il cavolo di animali sono questi. Facciamo che sono ironimi. Non sono fenicotteri, ma sono altri animali. Sono fenicotteri. Ci sono le anatre. Sì. Qui. Il gru. Ah, c'è un alligatore, non l'avevo visto. C'è l'alligatore. Qua c'è un cervo, un cerviatto. Quindi io mi immagino anche eventi di caccia. Però, ecco, mi chiedo... Tanti hanno scritto graficamente niente di che. Io lo so, ragazzi. Capisco tutto. Oh, no, no. Alcuni hanno scritto sembra GTA 5. Ah, regà, minchia, però. No, ma che cavolo, vi fumate? Ragazzi, io posso capire che magari il colpo d'occhio per alcune scene non sia pazzesco. Però, tecnicamente, è notevole, ragazzi. Dovete considerare che è un open world. Non potete ragionare sempre come se fosse un The Last of Us. Questa è una goduria per gli occhi, sta scena. Ah, qui c'è stato il caso, perché nei commenti è esploso questo caso. Vabbè, poche persone, ovviamente, ma sempre simpaticamente. Sembra che abbiano interpretato che io abbia notato quel gluteo oliato. Come a dire, è fatta male la luce. Io ho detto no, dobbiamo vedere come è fatta la luce. Intanto si vede questo gluteo così illuminato. È chiaro che poi nell'enfasi della Reaction al trailer non ho spiegato ulteriormente, però è chiaro che fosse oliato, no? Altra cosa, ragazzi. Si sporcano i piedi. I piedi sono sporchi di sabbia. Cioè, sollevano la sabbia e la sabbia rimane attaccata ai piedi. Poi vedete quello a destra che sta fotografando il culo di quella che sembra l'influenza. Allora, questo sta fotografando. Qualcuno ha detto è un pervertito. No, secondo me è lei che sta facendo un contenuto e si sta facendo fotografare. Ragazzi, il cagnolino che corre e solleva la sabbia. Il chihuahua. Lui, per esempio, corre e siccome è sudato e muscoloso, se lo vedete bene da vicino, cioè la luce viene riflessa molto bene sul sudore. Notiamo anche che i corpi sono tutti diversi. Body type parecchio diversificato, è vero, è vero. Poi sempre notiamo l'elicottero, l'aereo e l'elicottero. Un altro elicottero là. Un altro elicottero. Vedi come sollevano la sabbia e rimane attaccata ai piedi. Questa cosa se mai vista non credo. Quello mi pare che abbia le scarpe. No, no, è sabbia. No, lui ha le scarpe. No, quello ha le scarpe. Lei no, lei no. Però sì, rimane attaccato. Questa è una visuale. Ovviamente ci saranno penso le gare, un altro aereo. Vabbè, questo penso che sia una scena di un inseguimento o qualcosa del genere. Ovviamente ci saranno i motoscafi. Ragazzi che cazzo stavamo a parlare. C'è stato sempre il motoscafo. C'è stato sempre il motoscafo. C'è stato sempre il motoscafo? C'è stato tante volte. Vabbè comunque... Allora, qualcuno dice questa è Lucia. Potrebbe essere lei, così come potrebbe non essere lei e essere una a caso. Ma secondo me non ha troppa importanza che questa sia Lucia. Tanto sappiamo che c'è Lucia. Potrebbe essere anche il passato di Lucia, comunque. Allora, questo è un quartiere che esiste davvero a Miami. Tutti esistono davvero. E praticamente anni fa, nel 2019, un tizio di questo quartiere aveva detto Quelli di Rockstar sono venuti a fare i rilievi. Sì. E la gente diceva, sì vabbè, vai a quel paese. Invece a quanto pare era vero. Perché c'è proprio questo palazzo preciso. I personaggi si abbronzeranno, secondo voi? Oh, può darsi. Ragazzi, lo fanno in Animal Crossing? Ragazzi, in GTA San Andreas si ingrassava e si dimagriva. In Red Dead Redemption ti crescono la barba e i capelli. O le macchine, tra l'altro, dopo ne parliamo perché si sono viste di più. Si parlava di diritti ufficiali sulle macchine. Io non credo, ragazzi. Perché credo semplicemente che lei abbiano perfezionato i modelli. Per esempio, quello davanti sembra che è una Ford. Si vedeva una Porsche, che però magari in realtà non si chiama una Porsche. E si vedeva anche la Ferrari. Dicevano col cavallino. A me sembrava più il coniglio bianco rampante, che in realtà è la Grotti. Ah, la Grotti. Sì, sì. Qua si vedono alcuni dalla destra a mano. Qua c'è Make It Rain Mondays, quindi è lunedì. Quindi ci sono feste ogni giorno. Il lunedì di Make It Rain, cioè fate piovere denaro. Qualcuno, ragazzi, ha letto dietro questa maglietta. Ci sono l'elenco delle città di GTA. Per me, onestamente, io non leggo un cavolo. Ma questo era una cosa, l'elenco delle città? Era anche, se non sbaglio, un poster che era molto simile a questo. Questo qua mi sembra un personaggio talmente dettagliato e inquadrato così vicino che secondo me sarà un personaggio importante. Qua un overview della città, una panoramica notturna della città. Quanto è bello. A me sembra un tripudio di luci e di dettagli. Ma poi di dettagli, se tu vedi sui balconi, voi zoomate, vedete i dettagli diversi su ogni balcone. Qui c'è un campo da tennis, probabilmente potremmo giocare a tennis. Speriamo sia fatto meglio il tennis che in GTA 5. Il tennis in GTA 5 era fatto una mezza merdita. Ecco, 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 ecco. Vedete, quella è una Porsche, ma non è una Porsche. Allora, ragazzi, escluderei che ci siano le licenze ufficiali. Si vede chiaramente che quello non è il simbolo della Ferrari, ma è un goniglio. A destra c'è un... Ah, si, praticamente questo senza tetto ha sulla spalla un'iguana. Immaginate, possiamo avere il nostro iguana nella casa. Questo è l'Ocean View Hotel, che è l'hotel di Vice City, che si vedeva in GTA Vice City. Allora, qua si, appunto, c'è un contesto di discoteca con DJ. Esatto, e la discoteca non è la prima volta che la vediamo. Ragazzi, ecco questa. Questo è un ponte vecchio, che non viene più utilizzato, vedi che è interrotto avanti e indietro? Sì. E questo è il ponte nuovo. Sì. Secondo te in questo ponte quante persone si butteranno? Sì, arriviamo sul ponte irraggiungibile, ci arriviamo con l'aereo. Si muore sul ponte. Facciamo un salto per arrivare sul ponte. Ragazzi, non mi interessa niente. Io voglio tornare nel 2013-14, anche come spirito, un po' dei video che faremo. Esatto, sì. Perché vi ricordate il portavoce in GTA, li voglio fare tantissimo. Ragazzi, voglio fare anche cazzate che hanno sempre fatto tutti e noi non l'abbiamo mai fatte perché all'epoca non eravamo sti gran pubblicatori di gameplay. Ah, qua c'è un dirigibile. Allora, ragazzi. Allora, allora. A parte questo body type notevolissimo. Ragazzi, ma questo body type notevolissimo è Lucia? Se è Lucia, ragazzi, hanno azzeccato la protagonista per i prossimi 25 anni, scusate. Non penso sia. È Lucia. È sempre Lucia. Qua è bionda veramente. No, ma poi le labbra non mi sembrano le sue. No, a me non sembra Lucia, ragazzi. Tra l'altro, vedi questo brand, Raiden? Louis Vuitton, l'ho detto prima. È Louis Vuitton che si chiama, è Louis Vuitton finto e si chiama 69. Allora, ragazzi. Guardate qua i capelli. Anche qui i capelli. Hairworks che non hairworks. Però secondo me è notevole. Guardate. Guardate come si appoggiano sulla spalla. Guardate. E dai. E dai. E dai. Ragazzi, la fisica dei capelli è ottima. Ah, ma quelli capelli, scusate, avete ragione. Li ho notati. Le unghie. Allora, adesso, ragazzi, ditemi di che colore è il cane? Alfredo. Prossima domanda. Oh, Vice. Ecco, la scritta Vice e in realtà c'è questa scritta proprio Miami. Sì. E appena esci dall'aeroporto la vedi. Sì, sì. Come Hollywood. C'è Hollywood e qua c'è Vice. Ah, e qui comincia una serie di social che si susseguono. GTA deve essere la fotografia dell'attualità. Come fai a non mettere questo? Tanto all'inizio avevo letto Gabbo di Squared. In realtà è Dad Bod Squad. Cioè, Dad Bod Squad. Sì, perché lui è un papi e queste sono le sue mamitas. Allora. Ecco, per esempio, questo dell'alligatore che esce dalla piscina. Praticamente questa è una cosa che succede spesso a Miami. Se li trovano pure nelle foglie. In Florida, volevo dire. In Florida gli alligatori vanno in giro. Può capitare di trovarsi degli alligatori nella piscina. E quindi questi sono i cattura-alligatori, diciamo, che catturano. Guarda la flora. Sì, sì, sì. Anche la flora. La vegetazione, insomma. E la fauna. Guarda il coccodrillo che esce dall'acqua. Come si dimena, tra l'altro. Guarda il coccodrillo che esce dall'acqua. Eh sì. Eh sì, 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 sì. Anche... Che scuote la... Anche questo, per esempio, è un meme. È praticamente per me sta... Allora, non è che è un meme. È davvero una tizia che ha fatto... È esistita davvero. Ma non è una. Ne fanno tanti. Sì. Appunto è un meme. Un meme, un trend. Cioè qualcosa che poi diventa... Dio so come... A parte i capelli, anche qua. Ci infolti, guarda, le vanno un po' davanti alla faccia. I capelli sono... The Raiden! Però, dico, c'era questa tizia che tuercava sul tetto, no? Allora... Nella realtà, dico. Anche questo, che state vedendo, mi sembrava una gara. Invece no. Se ci fai caso, ci sono quelli che riprendono e queste che ballano un video musicale, probabilmente. Sì. Capito? E loro stanno assistendo... Sì. Alla... Il fumo, sì. Ed è questo il video, praticamente. Ah, ok. Anche questo è una citazione. Sì. Perché c'è stato un allegatore che era entrato in un supermarket, in una pasticceria, insomma. Che è... Insomma, è successo veramente ed è finito il video e è diventato mezzo virale sull'internet. Allora, ragazzi, qui vediamo un POV, una bodycam, più che altro. Una bodycam. Una bodycam della polizia. Oh. Perché c'è scritto police e qui vediamo un bodycam della polizia. E uno dice... Ma che cosa c'entra la polizia in tutto ciò? Secondo Midna... No. Allora, io ho una teoria. Secondo voi... Questa è una domanda che vi faccio. Secondo voi, questo poliziotto che sta guardando in prima persona... Che è autore del filmato. Che è autore del filmato. Tiene la pistola con la sinistra. Tiene la pistola con la sinistra o con la destra? Palesemente con la sinistra. Cioè, la fa tenendo con tutte e due le mani. Però la mano che ha il grilletto pronto è la sinistra. Secondo me è la sinistra. La sinistra. Questo. Jason è mancino. Ecco. Questo. Magari è un dettaglio che non c'entra niente, ragazzi. Però magari è un infiltrato. Magari non c'entra niente, però... Chi lo sa. Chi lo sa. Oppure, semplicemente, come dice Pippo Poppo, l'hanno messa così. A caso. Esatto. Per carità. E queste sono speculazioni totali. Non rumor. Proprio nostre deduzioni che potrebbero essere sbagliate. E uno che sta facendo un video di uno che sta scappando mezzo nudo praticamente. O una che sta scappando mezzo nudo o mezzo nuda dalla polizia. Planet Leonida Man. Lo sai che c'è il meme Florida Man. Planet Florida Man. Qualcun altro pensa. Qua c'è uno che sta facendo benzina. Puoi fare benzina. Puoi fare benzina. Siccome è il secondo che fa benzina che si vede. Eh. Dicono. Puoi fare benzina. Effettivamente, se tu vedi un NPC fare una cosa, in teoria la puoi fare anche. Posso dire una cosa, ragazzi. Però. Fare benzina. Ma non pensi. È una rottura di cazzo. Obiettivamente, dover fare benzina, anche in mafia, io non la facevo mai. Piuttosto cambiavo macchina. La rubavo. Ne rubavo un'altra. Questo è il classico redneck, no? Vai alla fuzzuta palestra. No, non è quello. Qui il dettaglio che noto è che questa macchina, vedi che ha lo scotch. Sì. Cioè, non è un interno qualunque. No. È una macchina con lo scotch. Ah, guarda, hai visto questi cattivi? Ah. Ricercati per aver sniffato delle mutande. Panty sniffing. Vabbè, queste sono genialate pubblicitarie a sfondo sessuale. Come, ragazzi, ci sono sempre state in GTA. Sono sempre state brillanti, eh. Qui c'è qualcuno con le mutande di fuori. E il tizio di prima, quello dettagliato, no? No, 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 no. No, queste sono i capelli molto più lunghi. Però i capelli? Ripeto, i capelli sono fatti bene. Cioè, la fisica dei capelli è notevolissima. E la macchina comunque è bagnata, no? No, è glitterata. È glitterata. È perlaceo glitterata. In Need for Speed Underground. Guarda questo che body fat basso ha. Attenzione. Io vedo la vegetazione. Io vedo tutto. Gli interni della casa. Non credo che questo sia importante. No, no, no. Penso sia di secondo piano. Guarda il fango come si... Dai. Qui forse ci saranno gare. Sì, i mud race. Cioè, nel senso, le gare sul fango di quad. Praticamente, di cose così. Ecco, questa qui è un riferimento alla Karen con i due martelli. Con i due martelli. Che è diventato un meme. Poi vabbè, il solito cazzeggio da social. Ang... Angstypan. Angstypan cura le emozioni. Sì. American... America's favorite dissociative. Cioè, è il dissociativo preferito dagli americani. Sì. Questa è una denuncia, no? All'azienda farmaceutiche americane che prescrivono... Non le aziende farmaceutiche, però anche i medici prescrivono un sacco di medicinali esagerati per delle patologie che potrebbero essere curate con molto meno. Ragazzi, non è un caso. Se vi siete visti qualche documentario su Netflix, c'è stata anche una docufiction su Netflix molto interessante che spesso magari si curavano con degli antidolorifici che creavano molta dipendenza dei semplici mal di schiena. Ho notato in questo trailer che mentre vediamo molto bene Lucia, Jason è sempre di lato. Ah. Cioè, non è un po' coperto. Non lo vediamo mai bene. Non lo vediamo mai bene... Sì, non frontalmente. È sempre di lato. Non frontalmente. Vabbè, qui anche lei la vediamo di lato. No, ora lei si gira e la vediamo super bene. Larga. Anche i dollari, guardate come hanno le piegature, le stropicciature, dai. Non sono dollarazzi buttati lì poligonali. No, esatto. Un poligono unico per un mazzo di dollari. Ogni dollaro sembra definito. Vabbè, uno che ha fatto inversione praticamente. Sì, sì. Praticamente ha fatto il pazzo. E quello dopo si riferisce a un arresto di uno che è praticamente un personaggio spagnolo. Questo qua. Perché è stato veramente, cioè esiste veramente. E dice la confessione scritta sui tatuaggi. Ah, il criminale era Joker, ecco. Arrestato in Florida un tizio stupido, ma è diventato un meme perché assomigliante a Joker. Ecco, ecco, ecco. Non mi ricordavo se si chiamasse Joker, però sì. Era quello a cui facevo riferimento. Dopo i social qui stiamo vedendo tutta una serie di notizie. Sì, è vero. Queste sono le Weasel News. High Rollers Lifestyle. Questo forse è un canale. Questo è un canale. Questa è tutta TV quella che stiamo guardando. High Rollers Mag, vedi? E sopra quel cartellone, who works you? Tipo di un avvocato? Forse un avvocato, sì. Un avvocato per, tipo, alla Better Call Saul di quelli spiccioli che praticamente fanno... Anche questo è bello dettagliato. Sì. Ecco, qua rivediamo loro. A parte c'è la Peace Wasser. Nine. Ovviamente. Loro. Guarda anche il vetro di quelle bottiglie sulla destra. Sì, vero, vero. Ragazzi, ma che ce volete dire? Guarda il capo al management. Interessante. Il capo al management qui, un po'. Interessante. Ci sta la telecamera, sì. Ma allora lo sono coperti, in teoria. Oddio, si riconoscono benissimo. Si riconoscono abbastanza bene. Ma vai i dettagli, vai i dettagli. Dai. Vedi, lei mi sembra sempre determinato. Lui non lo so. Lui sembra un po' stranito. Ah, quello... Allora, ragazzi, questo mi fa ridere che qua c'è... Pawn and gun, e qua è gun and pawn. Lui ha sempre la faccia preoccupata, sì. Tipo quello che è insicuro. Però, ragazzi, il fatto che sia un poliziotto... Cioè, non è che un poliziotto prende e ammazza la gente. Cioè, noi in GTA possiamo ammazzare chiunque, pure le becchette per strada. Ma non è detto che sia un poliziotto? Infatti, mi sembra strano. Cioè, come fai a fare il poliziotto e ammazzare la gente? Eh. E questa è una parte? Sì. Lei gli dice... Ti devi fidare, una cosa del genere. Questo è un motel, chiaramente, di Quartordi. No, a parte il pelo... Eh. A parte il pelo, lui ha il buco su un lobo. Sì. E in altri video, passati, leak e robe varie, aveva l'orecchino. Sì. Quindi, probabilmente, gli potete mettere e togliere orecchini. Sì. E quindi, lui, quando non ce l'ha, c'ha il lobo. No, il lobo, c'ha il buco del lobo. C'è il lobo. Altrimenti non hai il lobo. Ah. Vendi in giro. Ecco, qua fanno una rapina, no? Sì. Perché poi sembra sempre... Sono vestiti esattamente come erano vestiti prima. Secondo me è una riprise della scena di prima, però... Prima ancora. Qui, però, secondo me, è prima, ragazzi. Perché lei qua non ha il braccialetto... Degli arresti domiciliari. Degli arresti domiciliari. Lei è sempre avanti. È come se fosse lei a spronarlo. Sì. Lei è la leader, no? Lei sembra la leader della coppia. Tra l'altro è stato confermato solo console. Per adesso. Per adesso. Quindi non PC. PC uscirà, come da tradizione di Rockstar Games, uscirà forse un anno dopo. Magari prima, stavolta, chi lo sa. A parte lo fanno per ottimizzare meglio la versione PC. E anche un modus operandi che definisce sostanzialmente il loro modo di fare marketing con i loro titoli. Cioè, loro quando fanno uscire GTA 6, un GTA, su console, poi te lo rifanno uscire praticamente a distanza di un anno. Ed è come se fosse una nuova uscita di un nuovo GTA per tanti. Su PC. Quindi lo possono fare perché sono loro, ragazzi. Perché se lo possono permettere loro. Certo che... Altri si attaccherebbero al cazzo. Altri o escono su PC al lancio del gioco oppure un anno dopo non gliene frega più un cazzo a nessuno. Non lo so, buono. Io non c'è assolutamente nulla che possa dire, per cui possa dirmi delusa. Assolutamente. No, delusa, deluso. L'unica cosa è che avrei voluto che uscisse prima. Perché nel 2025 ancora passano due anni. Ma anche questo in realtà è che non siamo stati, non abbiamo avuto una buona memoria noi. Perché torno a dire, in realtà il trailer di GTA 5 era stato mostrato originariamente nel 2011 e poi è stato fatto uscire nel 2013. Però il fatto che noi ci aspettassimo che uscisse nel 2024 è per un motivo un po' più preciso e che non era capitato in passato. Ovvero che parliamo di un GTA 6 che esce a distanza di 10 anni e quindi uscirà a distanza di 12 anni adesso rispetto all'ultimo. Non era mai stato tutto questo tempo, no? Grazie ragazzi, vi voglio bene e buonanotte. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao.